numero 5 scala multifunzione 3 in 1 questo articolo può essere trasformato in scala da appoggio scala a libro e ponteggio da lavoro dotata di ampia piattaforma da lavoro misura 147 centimetri di lunghezza per 40 di larghezza trasportabile facilmente grazie alle due rotelle in dotazione ha una capacità di carico fino a 150 kg i piedini hanno un rivestimento in gomma antiscivolo la scala una volta chiusa può essere riposta occupando poco spazio trovi il link di questo articolo in descrizione numero 4 questa scala ponteggio ha tre varianti di montaggio può essere utilizzata come scala a pioli scala a libro ponteggio dotata di sei grandi giunti di sicurezza per il bloccaggio la scala può essere montata in diversi modi a seconda delle necessità i pioli con scanalature antiscivolo impediscono lo scivolamento e garantiscono una presa sicura quando non in uso la scala può essere facilmente ripiegata e conservata risparmiando spazio realizzata in alluminio solido e resistente con piedini antiscivolo trovi il link con il prezzo di questo prodotto in basso nella descrizione del video numero 3 scala ponteggio multifunzione 3 in 1 realizzata in resistente alluminio ha una portata massima di 150 kg la scala è dotata di rivestimento antiscivolo e di un corrimano per una maggiore sicurezza durante i lavori il ponteggio misura 175 centimetri di altezza 160 di larghezza e 45 di profondità il prodotto è certificato facile da trasportare grazie alle due rotelle di cui la scala è dotata ideale per lavori di muratura giardinaggio pulizie se ti interessa questo articolo trovi il link in descrizione numero 2 questa scala ponteggio è perfetta per progetti domestici e lavori di costruzione fai da te la scala è multifunzione può essere trasformata in una scala a libro due scale singole corte una scala lunga da appoggio e un mini ponteggio i piedini stabilizzatori bloccano in posizione il ponteggio e ne garantiscono la stabilità e la sicurezza la scala ponteggio è realizzata in alluminio resistente e sopporta un carico di 150 kg facile il trasporto l'articolo ha un peso totale di 15 kg il prezzo di questo articolo è consultabile attraverso il link in descrizione numero 1 questo articolo può trasformarsi in una scala a libro con un'altezza di 130 centimetri in una scala singola con un'altezza di 220 centimetri o in un ponteggio largo 147 centimetri profondo 40 e alto 100 la scala del ponteggio è realizzata in lega di alluminio di alta qualità la capacità di carico massima è di 150 kg la piattaforma è antiscivolo e i gradini sono scanalati per una migliore tenuta ideale per pulire finestre lavorare su facciate o tappezzare pareti i piedini della scala sono in gomma antiscivolo per una maggiore sicurezza facile da trasportare in descrizione trovi il link su amazon di questo prodotto